Tra i 100.000 orti promossi dalla regione toscana attraverso un progetto a cui hanno aderito 62 comuni, ce n'è uno particolare, quello realizzato a Volterra dall'amministrazione comunale insieme alla locale casa di reclusione per dare ai detenuti la possibilità di svolgere attività agricole in spazi extramurali dell'istituto rimasti in abbandono per molti anni e ora trasformati in bellissimi orti giardini. È un progetto culturale che noi stiamo portando avanti con fatica ma che sta riscuotendo giorno dopo giorno sempre maggiori attenzioni da parte delle associazioni di volontariato, da parte dei comuni perché lega e aggrega generazioni completamente diverse. I detenuti hanno coltivato gli orti in assoluto volontariato. Hanno capito il valore e l'importanza del progetto, un progetto poi all'aperto, estremamente creativo, volto veramente a poter stare a contatto con la natura e a vedere poi il risultato del loro stesso lavoro. Alcuni di loro, quelli che già potevano uscire all'esterno dell'istituto, sono andati sempre in volontariato a curare gli orti del Santa Chiara, che è la casa di riposo per anziani, e di Villa Giardino, insegnando così anche ai ragazzini che si trovano a Villa Giardino e agli anziani come poter curare un orto. Durante la visita agli orti del carcere di Volterra, l'assessore Remaschi ha voluto presentare la guida per una orticoltura pratica, curata per conto della regione dall'Accademia dei Giorgofili, uno strumento di lavoro destinato ai comuni intenzionati ad allestire orti da affidare in gestione ad associazioni. È un modo per avvicinarsi in maniera semplice, essenziale ed efficace, in modo dettagliato, andando ad analizzare quelli che sono gli aspetti principali delle coltivazioni, di come si gestisce un orto, delle modalità in cui si può gestire un orto, se in maniera convenzionale, integrata, biologica. Sui 100.000 orti in Toscana la regione ha investito 3 milioni di euro.